Forte dell'esperienza della costruzione del Nexus One, il Google fonino, HTC ha presentato la sua interpretazione dello smartphone high-end basato su Android 2.1 Eclair, l'HTC Desire. Simile nella dotazione di serie, adotta processore Qualcomm Snapdragon a 1 GHz e display capacitivo AMOLED da 3,7 pollici, ma si differenzia dal Google fonino per il joystick ottico al posto della trackball e la personalizzazione software dell'interfaccia HTC Sense, che offre una serie di widget per personalizzare l'homescreen con applicazioni, contenuti e social network. Già compatibile con Flash 10.1, punta a offrire un'esperienza web multimediale completa. Al primo contatto il terminale sembra essere molto fluido e reattivo e la qualità del display è una delle caratteristiche che balza subito agli occhi. Anche HTC Legend offre un display con tecnologia AMOLED, anche se più piccolo e di minore risoluzione, in particolare 3,2 pollici e HVGA. Si fa però notare per il corpo in alluminio unibody, privo di giunture. Anche questo terminale utilizza il sistema operativo Android 2.1 e va a raccogliere idealmente l'eredità dell'HTC Hero, richiamandone l'ergonomia ma sostituendo la trackball con il mouse ottico, come già visto sull'HTC Desire. Anche la dotazione di serie è leggermente inferiore e, accanto alla connettività che rimane completa, affianca un processore a 600 megahertz. In ambito Windows Mobile, HTC ha scelto la stessa strada adottata da Sony Ericsson, andando a proporre una versione rimpicciolita di uno dei terminali di fascia alta. In questo caso stiamo parlando dell'HTC HD Mini, che si presenta come una versione più piccola e leggera, e anche più economica, dell'HTC HD 2. Il nuovo piccolo terminale porta in dote l'ultima release di Windows Mobile, la 6.5.3 Maldive, che supporta nativamente i display capacitivi, come quello che equipaggia appunto l'HD Mini. Si tratta di uno schermo da 3,2 pollici con risoluzione HVGA, che affianca il resto della dotazione di serie, processore a 600 megahertz, connettività completa Wi-Fi HSPI e Bluetooth 2.1, slot microSD, GPS, jack da 3,5 pollici. Nel software preinstallato troviamo l'interfaccia HTC Sense e dal punto di vista browser Opera Mobile. HTC Legend e HTC HD Mini arriveranno sul mercato verso la fine del primo trimestre dell'anno e andranno a rappresentare un'alternativa interessante nella fascia media di mercato.